Negli studi di TV City Luigi Mennella si è chiuso ieri sera il primo turno delle elezioni amministrative, in questo primo turno lei ha ottenuto 18.764 preferenze, un risultato che va oltre le sue aspettative. È un risultato che è significativo perché vuol dire che la città ci vuole, che il progetto che abbiamo portato avanti è un bel progetto e sicuramente adesso siamo qui a portare avanti quello che ci siamo proposti e c'è la città innanzitutto. Come proseguirà adesso la campagna elettorale verso il ballottaggio? Proseguirà nel modo semplice come l'abbiamo fatto fino adesso, con l'entusiasmo, con la voglia di cambiare la città realmente, con quello che noi ci prospettiamo e c'è dare la città come dicevo prima, una città a dimensione uomo, una sicurezza, una pulizia, una trasparenza soprattutto e poi anche incominciare ad iniziare definitivamente un'inversione di tendenza che possa vedere poi Torre del Greco crescere e sicuramente avvicinarsi a quelle che sono le città che sono da noi sostanzialmente governate, cioè Porti, Circolano e San Giorgio a Cremano. Come ha vissuto la giornata di ieri in attesa dei risultati? Sul divano a vedere un bel film. Quindi è giunto in serata al comitato elettorale? Sono andato in serata perché sono rispettoso e perché tutte le persone che mi aspettavano siamo stati contenti, felici, ci sono anche alcune immagini in giro perché all'inizio un mese e mezzo fa ovviamente non ci davano per questo risultato, c'era chi faceva continuamente credere che avessero già vinto il primo ad uno con il 56-57%, i risultati non sono stati quelli, siamo noi i primi e continueremo ad esserlo prossimamente. Un risultato significativo anche per la sua coalizione? Un risultato importante della mia coalizione che ha visto insieme tantissime persone per il gruppo così come Raffolto, una piccola parte esperta e tutto il resto persone nuove alla politica che hanno ottenuto bei risultati.